Eccoci a fine partita, siamo con il presidente del Marina, Tommaso Pezzuti. Io ho detto durante la teleclonaca, qui nelle nostre zone si comincia tardi la preparazione, abbiamo il turismo fino a fine settembre, un campionato che è iniziato da poco. Dunque anche questo è motivo per giustificare un po' questa sconfitta di oggi, ma Marina comunque che è stato quest'anno ammesso al campionato di prima e credo che si riprenderà il più presto. Certo, sicuramente, diciamo con la preparazione abbiamo iniziato come diceva lei in ritardo, stiamo effettuando tre anche quattro allenamenti a settimana, stiamo cercando di mettercela tutta, penso che un altro po' di sacrificio e si inizieranno a vedere i risultati. Ecco una squadra oggi esperta, questa del Sassano, molti giocatori esperti non solo di questa categoria ma anche di categorie superiori. Quel rigore sbagliato da Esposito forse poteva cambiare un po' la storia della partita? Sicuramente, nel calcio dei vinsegni sono cose che capitano e purtroppo è andata così. Speriamo bene. Però ho visto del buone individualità, ho visto il ragazzo bifano che davvero ha giocato forse secondo me il migliore in campo, quindi ci sono i giovani, insomma si deve lavorare. Noi confidiamo appunto su questo, sui giovani, sulle realtà locali e grazie al mister Infadini, ripeto, speriamo di andare avanti sulla strada giusta.